bella a tutti ragazzi benvenuti ad un altro video per le missioni della stagione 7 andiamo avanti con semente da fieno oggi andremo a vedere come risolvere la missione posizione a cartelli per persone scomparse a foresta frignante e brughiere brumose non perdiamo altro tempo ragazzi andiamo subito in partita let's go ok ragazzi eccoci in partita ce l'abbiamo proprio sotto brughiere vi mostro tutte e quattro le posizioni cercherò di farvele vedere in fila in modo che potete farli tutti e quattro uno dietro l'altro colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avesse fatto e lasciare un bel like al video allora andiamo partiamo per comodità da questo lato perché il primo cartello si troverà proprio qua nel frattempo abbiamo fatto un altro obiettivo a caso del tutto a caso il primo cartello dovrebbe trovarsi qua eccolo vediamo già un bagliore qua andiamo 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 piazziamolo velocemente primo cartello posiziona ok poi andiamo da quest'altro ecco un altro cartello ok poi andiamo dal terzo velocissimi nel frattempo si stanno sparando alla grande prendiamo una macchina per comodità andiamo 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 perché l'ultimo si trova da la dall'altra parte di brughiere vicino al telefono e precisamente ecco qua l'ultimo cartello ecco qua l'ultimo cartello scusate ma ho dovuto rifare l'ultimo pezzettino di video perché si era buggata la missione quindi potrebbe farlo anche a voi che nel momento in cui andate a raccogliere il cartello vi scompare comunque l'abbiamo completata ragazzi ho anche livellato sono tanti punti facili 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 bella ragazzi al prossimo video ciao bella a tutti i ragazzi al prossimo video della compagnia dei navi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina codice supporto a un creatore su fortnite lucchino n con la cappa tutto attaccato ciao